La parola di Dio per noi riveste un ruolo importantissimo, un ruolo principale, fondamentale. Ho ricevuto Gesù e ho cominciato a sentirmi leggera dal mio peso. Il nostro Dio, Cristo Gesù il Signore, il Salvatore che in questo giorno noi presentiamo è colui che è in grado di compiere ancora oggi un miracolo straordinario e gli calma ogni tempesta. Grazie a tutti.